La pedra segreta non è più nemmeno che uno spazio all'aperto inserito completamente nella natura dove ogni cosa ha una storia e questa storia viene, anche se piccola, costruita nel tempo. Qui c'è una forza incredibile dove sicuramente qualcuno viveva perché c'erano degli incroci di energie e queste energie ci sono ancora. Quello che fa trapelare il posto speciale è proprio questo perché sono le costruzioni antiche che facevano le famiglie per vivere la casa. Mano a mano si ampliava la famiglia, mano a mano si ampliava lo stazio, ma si allungava, non aveva mai una forma diversa. Le finestre erano piccole, cosa che qui oggi abbiamo dovuto, tra virgolette, un po' forzare perché la vista, sì, era importante, ma era importante il caldo che non entrasse dentro casa. Gli spazi sono abbastanza piccoli, uno diverso dall'altro, ma l'anima di questo posto è la vista, è la sensazione che ti dà la natura, non è la sensazione che ti dà il cubo dove stai dentro con il tuo letto. E' proprio questo che lega Petra Segreta a un prodotto particolare perché tutto viene basato su questi elementi più o meno semplici inseriti nella natura. D'altronde è nato così, è nato così. Quello che mi sento di dire è che Petra Segreta è questo, una location unica sicuramente, di grande anima e forse direi in equilibrio tra cielo, terra e mare.